Siamo in ultimo passaggio, tra l'esprello, i migliori, la notte del 26 e del 26, la rinforzio, la rinforzio, su un grande salubrio, all'occhio per il giudizio, che si tratta alla rifa, un amore e una professione. Siamo in ultimo passaggio, la rinforzio, la rinforzio, i migliori, la rinforzio e la rinforzio, Grazie!